Faccio i complimenti a Vincenzo perché ha lavorato bene, sta lavorando bene con una squadra importante anche perché insomma noi pensiamo che il campionato turco sia leggero invece è molto molto sentito i tifosi soprattutto sono molto caldi, molto calienti. Abbiamo anche visto durante questo europeo dove ci sono 30.000-40.000 turchi a vedere ogni partita vuol dire che insomma c'è l'apporto sicuramente anche del pubblico oltre ad avere giocatori quotati soprattutto quei ragazzini giovani che sono emersi in questo europeo. Un allenatore propositivo, un allenatore che si è praticamente anche quando sta fermo documentato il suo credo è quello sempre offensivo anche se ieri ho visto abbastanza in difesa però penso che il calcio di oggi non si può sempre pensare ad essere propositivi bisogna anche pensare alla fase difensiva e una volta andato in vantaggio anche lui ha ritirato un po' i remi in barca come deve essere giustamente. Esattamente. Grazie a tutti